ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video oggi vi farò vedere il mio triceratobo di giurassi quarts ora vi faccio vedere le funzioni del mio triceratobo vedete se mettete in basso la coda potete fare i versi e potete anche farlo fuori da destra sinistra e comunque adesso ve lo farò tirare fuori dalla scatola per vederlo meglio bene adesso abbiamo tirato fuori il triceratobo della scatola ora vi faccio vedere le sue funzioni se tirate la coda in giù potete fare così con le corna si muovono le corna e con la destra potete mettere alla testa le corna in destra e le corna nella sinistra e poi le zampe si muovono vedete e poi vedete questo simbolo questo è un simbolo della zampa dei dinosauri che così potete farlo con l'ipad o con il telefono ora vi faccio vedere come combatte il mio triceratobo con un altro dinosauro bene visto che il triceratobo ha scompito questo coletto il pacice fa lo zaro con le sue corna adesso faccio andare combattigano con un altro dinosauro ora combattigano Bene, adesso è il triceratopo sconfitto nei domani stessi e quindi gli ha sconfitto proprio tutti quindi visto che ha sconfitto tutti i dinosauri ha vinto lui se vi è piaciuto questo video mettete un bel mi piace ci vediamo al prossimo video ciao